Siamo per fare una notturna con Diego che è due anni che non lo vedo e io sono un anno che non pesco a carfishing adesso vediamo che succede come al solito questo è il lago, lo vedete? riesco a fare la panoramica, no, però è veramente un gran ferro come al solito Diego è in ritardo Sono qua Steve, sto arrivando Ti sei scordato qualcos'altro? Sono qua, hai preso le chiavi Ah ok, io sono davanti al cancello Un attimo Sì, sì, sì Questo ragazzi è un'opera d'arte da paura, eh pescatore meccanico con carpa finta è bellissimo, è un'opera d'arte questa Sai che non me ne avevo mai accorto? Bello, bello Le boys, le boys Si è ascoltato le boys Andiamo dentro, andiamo dentro col mio Super 4K La coppa La minchia va Ah, devi chiudere Gatti un'occhiata? Che te frega E' bellissimo E' bellissimo sto lago, è bellissimo Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, sul fondo non ho il piombino, ma risolviamo anche questa, anzi ce li ho i piombini della Fox. Da qualche parte... Non c'è del tosteno? No. Da qualche parte forse ce li ho, ma è un problema che risolviamo anche questo. Vai, vai, vai. Fase di pasturazione. Non so ne che se si vede. Non so ne che se si vede. Andiamo nella furbella subito. Vediamo di sentire. E cosa dire? Guarda... Sono... Sono un re. Guarda, sicuramente non ti sarai lavato i piedi. No, io mi lavo, mi lavo. Guarda, guarda... Eccolo... Vorrei una favolina, una favolina e sono a posto io. Vuoi che te ne... No, no, a posto, a posto. Guarda, guarda.. portalo portalo su che ha la luce che te lo facciamo vedere sei contento il gattazzo di notte bello il tortello forse dovete accendere il fuoco non ho preso parmigiano ma i tortellini neanche l'olio ma fa lo stesso perché a me piacciono il parmigiano e l'olio non ho preso neanche il sale ci guadagna il colesterolo ci si risparmia nel colesterolo fammi vedere i tortelli come sono si ma cos'è una porzione per bimbi quelle i tortelli si mangiano i tortelli si lungono col tortello si lungono col tortello vieni qua che lo facciamo vedere pesce gattazzo pesce gattazzo e le carpe questo è giovane però questo si è riprodotto qua cacchio guarda lì che bello va bene da dove ti saluto ciao stai fatti bravi pesce gatto siamo in notturna adesso ci saranno i tortellini due gatti mi raccomando segnatevi campanellina iscrivetevi al canale così capirete i nuovi video che sono che sto per fare è luna di notte e cominciamo a avere un po il calo è un saluto da full timer pesca